eccoci eccoci qua siamo siamo con l'ultimo talk della giornata in questo talk vi racconto quali sono le novità del nuovo una versione di plone la versione plon 6 e anche di quello che è il futuro ma prima di parlare di quello che plon 6 facciamo un passo indietro faccio un passo alla fine dell'anno scorso ottobre dell'anno scorso alla plon conference 2022 che si è tenuta in belgio dove sono state presentate le novità della versione di plone che stava per uscire da lì a breve vi vorrei raccontare anche il dietro le quinte da parte di chi come noi vive attivamente lo sviluppo di questo software open source all'interno di una community distribuita in tutto il mondo non sei uscito a dicembre 2022 quindi dopo poco poco dopo la plon conference e in questi anni la community ha gestito e sviluppato il sistema plone cms secondo tre principi il primo principio l'obiettivo è sempre stato quello di costruire un cms sicuri più sicuro possibilmente questo costruito sulla base di python e con permessi molto granulari questo si estende anche passaggi di stato degli oggetti dei contenuti cioè workflow di approvazione e anche la consistenza dei dati nel momento in cui i dati vengono passati da una versione all'altra del cms questa caratteristica della sicurezza è stata spesso il motivo di scelte da parte di varie organizzazioni e aziende di tutto il mondo il secondo principio quello della flessibilità ed estendibilità plone infatti prevede un robusto sistema di addon di plugin quindi potenziando le possibilità le funzionalità prevede anche la possibilità di cambiare il design del sito in tutte le sue componenti e questo non è scontato anche rispetto ad altri cms è possibile mettere dati e estrarre dati da plone e inoltre è anche possibile cambiare i componenti del sistema come ad esempio la ricerca il sistema di autenticazione il database ma anche il back end e le front end il terzo principio è quello di essere accogliente in senso lato questo si traduce nell'avere un sistema accessibile tradotto in tante lingue e dove un sistema dove l'usabilità e la user experience dell'utente il redattore l'operatore è tenuta in grande considerazione anche la user experience per il programmatore che deve personalizzare deve sviluppare su plone è tenuta sicuramente in considerazione plone è sempre stato un sistema semplice da utilizzare l'obiettivo per plone 6 era direndolo ancora più semplice plone 6 ha infatti un'interfaccia grafica completamente diversa basata sul design system che si chiama pasta naga ui e chi ci segue ha già visto diverse cose di quello che sto per dire ma per questa nuova versione volevo comunque dare una panoramica completa 360 gradi di questa nuova versione nella progettazione di plone 6 i redattori gli editor del sistema sono stati messi sicuramente al centro della scena dei pensieri della community questo si è raggiunto riducendo la complessità concentrandosi sulle azioni più importanti che l'editor svolge sul sistema tipicamente e nascondendo anche le azioni e le opzioni meno usate in questa schermata dove l'utente l'operatore autenticato sulla sinistra vedete la bar di gestione che è stata semplificata proprio per seguire questo principio di semplificazione in plone 6 le cartelle non sono più necessarie le pagine in cui scrivere i contenuti possono infatti contenere altri contenuti quindi si serve un post dove mettere le immagini basta creare una pagina che può contenere a sua volta immagini e avere la lista di quell'immagine direttamente nella pagina stessa poi le cartelle si possono usare diciamocelo tra di noi anche se tipicamente insomma non è necessario e si usa il meccanismo che io appena di scritto. L'altro aspetto su cui si è lavorato molto è l'editing place. Editing place vuol dire poter modificare direttamente il contenuto che l'editor vede in quel momento. Questo consente ai redattori di lavorare in maniera molto più intuitiva perché l'utente quando sta lavorando su un contenuto mentre lo modifica vede direttamente il risultato che avrà quando lo pubblicherà. Questa è una funzionalità che Plone ha avuto fin dall'inizio ed è una caratteristica che lo contraddistingue rispetto ad altri sistemi ed è una caratteristica che come dire tanto apprezzata tra il redattore. vediamo un esempio. Questo è un'installazione di base. Quello che farò vedere oggi sono un'installazione volutamente di base. Il redattore sta vedendo un contenuto, lo vede, preme edit per andarlo a modificare e può lavorare direttamente sul contenuto. In questo caso va a modificarne il testo, aggiunge altri testi, va a formatarlo, va a modificarlo, aggiunge il versetto. Vedete lo evidenzia, non formatandolo appunto come vi dicevo anche come l'altro blocchettino e nel momento in cui l'editor va a salvare vede esattamente quello che è, come dire, esattamente nella forma in cui stava lavorando quel contenuto e questo rende sicuramente Plone un vero e proprio sistema che consente un editing in place. Se volessimo, dovessimo usare una parola che come dire sintetizza la nuova versione di Plone diremmo sicuramente blocchi. I blocchi consentono una grande flessibilità come abbiamo appena visto con quei blocchi di testo e consentono di creare layout moderni e responsive per renderli adatti a tutti i tipi di dispositivi. Ci sono varie tipologie di blocchi e l'architettura estensibile di cui vi ho parlato poco fa consente di aggiungerne altri che hanno altre funzioni. Poi, volendo mettere le mani al codice, si possono modificare quelli esistenti o crearne di nuovi. Vi faccio vedere un esempio, eccolo, aggiungo una pagina. Questo vorrei farvi vedere un blocco che si chiama blocco teaser, un blocco anteprima, che sostanzialmente cosa fa? Prende un altro contenuto, quindi adesso aggiungo un altro blocco, aggiungo il blocco teaser. Di quel blocco scelgo un riferimento di un altro contenuto, ecco che lo scelgo, navigo il sito, un contenuto, scelgo una notizia e di quella notizia mi viene proposto, in quel blocco, l'immagine, il titolo e la sua descrizione. Poi creo un altro blocco di testo, vedete che li posso spostare e salvo il contenuto. Di quel blocco anteprima che avevo creato viene, ha creato automaticamente il link all'oggetto, diciamo, destinazione e quindi in maniera molto semplice posso creare la mia pagina usando questo ulteriore blocco. Altri, come dire, altri blocchi che sono particolarmente utilizzati, c'è sicuramente il blocco list, che di fatto sostituisce, ma potenziando nelle funzionalità, le collezioni che sono, come dire, state deprecate in questa nuova versione. Questo in realtà dà altre possibilità a plone e lo rende sicuramente più flessibile perché è possibile, ad esempio, avere più blocchi all'interno della stessa pagina. Vediamo un esempio, creo di nuovo una pagina, voglio fare una pagina che riassume le notizie che sono presenti sul sit, quindi inserisco il titolo della mia pagina, inserisco il blocco listing ed esattamente come avveniva per le collezioni, devo indicare con quale criterio vengono raggruppati, viene mostrata quella lista. Ci sono vari tipi di criteri, uno dei più usati è probabilmente il tipo di contenuto, scelgo il tipo di contenuto tra i vari tipi di contenuti installati sul sito, scelgo il tipo di contenuto notizia, eccolo qua che lo scelgo, news item, posso ordinare i contenuti secondo altri criteri, in questo caso scelgo come criterio la data di creazione di quel contenuto, di quelle notizie, posso applicare un ordinamento, quindi quello di base o quello inverso e per quel blocco, per quel blocco listing, posso scegliere anche il tipo di visualizzazione, quindi con l'anteprima, con le immagini oppure senza. Questa è un'installazione base, quindi sono le funzionalità diciamo base, ma potranno, poi vedremo qualcosa di più tra un attimo, essere sicuramente potenziate. Ci sono già molti blocchi anche nell'installazione di base, non ve li faccio vedere sicuramente tutti, ma qualcun altro ancora ve li faccio vedere. Vi faccio vedere il blocco hero, diciamo così, quello che mette in evidenza un'immagine, quindi prendo una pagina che esiste, vado in edit, aggiungo il blocco hero che mette il focus diciamo sull'immagine, scelgo un'immagine dal computer, la carico sul sito, eccola qua, inserisco il titolo, inserisco la descrizione e un altro blocco diciamo è fatto. Il tema di questo di questo talk è un po' come esempio, il tema della, come dire, della parte erospaziale diciamo così, che mi ha passione. Ho inserito il testo, ecco la pagina è salvata. Andiamo avanti, altre funzionalità, andiamo avanti questa carrellata. Se la community ha lavorato su un nuovo editor di testo, o meglio sarebbe dire dei paragrafi, un po' quello che abbiamo visto poco fa in velocità, quell'editor che appare quando vado a selezionare il testo e voglio formatarlo. Il nuovo editor si chiama Slate, è un line editor e ha una migliore integrazione con volto, in volto l'interfaccia, questa nuova interfaccia che consente questa gestione a blocchi dei contenuti. È estensibile questo editor in line, vuol dire che è possibile aggiungere nuovi bottoni, nuove funzionalità e inoltre sono state implementate nuove funzionalità. In particolare il copio e incolla, quindi se io copio e incollo un contenuto da un altro sito, da un altro sistema con delle immagini, su plone vengono creati in automatico dei blocchi immagine e in maniera analoga se copio e incollo delle tabelle, ad esempio da Google Sheet, ebbene il sistema su plone, sul volto, crea in automatico un blocco tabella. Possono sembrare dettagli, ma in realtà sono tutte quelle finezze, quegli accorgimenti e quel supporto fondamentale per chi lavora pesantemente su un sito o una internet realizzata con plone e con volto. È possibile, ci sono tanti altri accorgimenti sotto questa parte di editor, è possibile unire due blocchi separati in un unico blocco, è possibile in realtà da un unico blocco farne diventare molto rapidamente due, è possibile gestire meglio le tabelle ed è possibile anche addirittura essere fatta attenzione sullo spostamento del cursore tra un blocco e l'altro. Ci sono tante funzionalità, alcune magari queste qua passiamo più velocemente. È possibile all'interno del testo usare dei marcatori speciali, si chiamano markdown, sono riportati diciamo nella parte di destra dell'edit dell'operatore, quindi ad esempio se inserisco il cancelletto del testo, quel testo diventa un titolo, se inserisco due cancelletti diventa un titolo di secondo livello, piuttosto che se inserisco un numero con una parentesi tonda chiusa oppure un 1, un numero con un puntino, quel testo lì, quello da lì in avanti diventa un elenco puntato. Vediamo un esempio molto rapidamente, eccolo che arriva. Quindi se inserisco il cancelletto vedete che diventa subito titolo, come dire, con una grandezza maggiore, due cancelletti sotto titolo in automatico e poi se inserisco, vedete l'1 con la parentesi, questo diventa automaticamente un elenco puntato molto comodamente, quindi il redattore come dire che lavora pesantemente sul sito può lavorare in maniera ancora più comoda, ancora più veloce. Questo esempio mi dà il pretesto per farvi vedere un altro blocco che è il blocco indice, table of content, che praticamente cosa fa? Crea in automatico un, l'indice della pagina del contenuto a partire dai titoli e sottotitoli che sono stati creati in precedenza. È un blocco quindi è possibile trascinarlo e vedete che man mano che io modifico i titoli e i sottotitoli, il blocco indice si aggiorna in automatico. Altro aspetto fondamentale di Blon6 è lo strumento per creare moduli, forma online, diciamo così, e questo strumento che tra l'altro abbiamo implementato noi a livello di community in maniera tutta analoga a quello che mi ha visto poco fa per gli altri tipologie di blocchi, si usa un'interfaccia molto intuitiva, molto comoda, diciamo così, e questo vedete un esempio, adesso non ve lo faccio vedere live, ma questo è un forum dove si raccolgono un po' di dati, nome e cognome della persona, è possibile decidere quali sono i campi, la tipologia di campo e la relativa obbligatorietà e eventualmente le aziende che devono essere compiute quando l'utente va a salvare, l'utente finale, diciamo, va a salvare quel form, ad esempio inviare una mail di notifica. La nuova interfaccia di Blon6 è quella che abbiamo visto poco fa, fino adesso, non è l'unica possibile, è infatti rimasta la possibilità di usare la tradizionale interfaccia di Blon6, che è stata definita dalla community Classic UI, ed è possibile quindi creare un sito o in un modo o nell'altro. Ci sarebbe molto da dire, quindi su questa parte vado veramente veloce, e durante il lavoro per questa versione Classic UI in realtà è stata l'occasione per fare anche molto lavoro dietro le quinte, anche sulla parte, diciamo così, classica di Blon6. Questa è un'installazione di base, quella in cui sostanzialmente si vede il sito, un sito base, è la pagina di benvenuto, ma in realtà questo per me è il pretesto per farvi vedere poi altre cose che sono cambiate. a parte il pannello di controllo con nuove icone, insomma, che se volete, insomma, è veramente una questione più estetica, in realtà è stato cambiato tutto il sistema di librerie, di Diplone, Diplone 6, e viene infatti supportato pienamente Bootstrap 5.2. Altro aspetto che è stato implementato, e questo vale sia per Classic UI, la versione classica, che per la versione nuova, è il pannello di controllo delle relazioni dei contenuti. Infatti è possibile controllare le relazioni, le correlazioni tra i contenuti all'interno del sito, e anche ispezionare, verificare quelli che sono i link interni del sito stesso. Questo è particolarmente utile per i redattori, capire, come dire, chi, quale contenuto è legato con quale altro contenuto. Altro lavoro è stato svolto sull'image scaling, cioè il modo in cui le immagini vengono ridimensionate a seconda del dispositivo. Questo aspetto è fondamentale perché il sistema deve poter dare al browser, diciamo così, la migliore immagine, tenendo conto del fatto che l'utente in quel momento è su una versione desktop, piuttosto che su mobile. Diplone 6 è pronto per andare in scena, cioè in produzione. Vi mostra adesso un piccolo campione di progetti realizzati dai vari attori della community, compresi anche noi, che magari hanno usato la stessa tecnologia che vi ho fatto vedere di volto, perché era possibile utilizzarla anche nelle ultimissime versioni di Diplone 5. Quello che vediamo è il portale dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, in questi esempi faccio vedere a scorrimento le homepage di questi siti, e a parte il portale principale sono stati realizzati, sono in corso di realizzazione decine di altri siti, portali tematici, con tanti tipi di blocco, sistemi di visualizzazione dei dati che arrivano da altri sistemi, eccetera. Volto e Plone alimentano, come dire, supportano agenzie governative di alto profilo in tutta Europa, qua vediamo il portale della Guardia di Finanza, quindi come dire un progetto italiano. Plone supporta anche, ed è diffuso anche in tante università e centri di ricerca in tutto il mondo, Stati Uniti, Europa, Giappone. Qua vediamo il sito dell'Università di Osaka, qui in Giappone, vediamo anche qua, scorriamo insomma, come dire, l'idea è quella di farvi vedere alcuni esempi e non certamente, anche per questioni di tempo, farvi vedere come sono stati sviluppati, come sono dietro le quinte, magari questa sarà l'occasione per un altro talk. Questo è ULIC, il più grande centro di ricerca tedesco, uno dei più grandi di Europa, con centinaia di sottositi per vari istituti collegati e altri progetti e, eccolo qua che arriva in fondo, della home page, Plone 6 può essere utilizzato anche per l'internet, lo stesso centro di ricerca, ULIC, ha implementato una internet che serve oltre 10.000 utenti. Tante realtà utilizzano Plone, le più etereogenee, diciamo così, spero che siete riusciti a seguire il precedente talk di Laria Grandinetti, che ha illustrato il progetto del portale corporate di Rayway, eccolo qua, lo vediamo scorrere, molto rapidamente, molto vario anche qua, insomma, tante cose, tanti tipi di informazione. Ecco, di questi progetti abbiamo intervisto solo l'home page volutamente, ma spesso la parte interessante sono gli strumenti realizzati per facilitare la vita ai redattori, basandosi sui concetti, sulle funzionalità abilitanti che abbiamo visto in Plone 6. E spesso però, in molti casi, gli strumenti messi a disposizione di Plone vengono estesi grazie alla sua versatilità, diciamo così, in base al progetto specifico. Quelli che vedete in questa schermata sono tutti i blocchi utilizzati per il progetto Rayway, quindi vedete che sono tanti, veramente tanti, e ognuno ha le sue peculiarità. La cosa importante però, qua vedete la parte di gestione lato back-end, e questo blocco ha una funzione specifica perché consente la formatazione in un certo modo del testo, l'immagine, eccetera. ma la cosa interessante è che questo blocco comunque offre la versatilità necessaria al redattore, ma ad esempio in questo caso, ad esempio sulla scelta dei colori, ci sono dei vincoli specifici, questo per far sì che venga mantenuto il registro cromatico definito in fase di progettazione. Quindi flessibilità sì, ma come dire coerenza all'interno del progetto anche sicuramente importante. Abbiamo visto cos'è Plone adesso, molto velocemente, quasi in apnea, ma vediamo quali sono già i prossimi passi perché la community, vi dicevo, è molto vivace, quindi è costantemente al lavoro su nuove cose. Innanzitutto dico che Plone 6 è una versione LTS, LTS vuol dire Long Term Support, che vuol dire un supporto a lungo termine, come si può intuire. Questo vuol dire infatti che viene garantita una certa manutenzione nel corso del tempo del software, quindi vengono forniti fix di sicurezza, di altri bug e piccole nuove funzionalità e ogni release principale ha almeno due anni, se non di più, di manutenzione. E può capitare, anzi capita spessissimo per non dire sempre, che le due versioni principali coesistano per un lasso di tempo. Questo è infatti il caso perché è uscita la versione 6, ma la 5 rimane ancora viva e attiva, la 5.2 in particolare, in modo tale che, insomma, si possa gestire con gradualità le transizioni verso le nuove versioni. Un LTS vuol dire che viene garantito anche l'aggiornamento delle pezze di sicurezza, in particolare a meno cinque anni, in molti casi in realtà anche di più, e vediamo anche quali sono i prossimi passi, sui vari fronti. È in lavorazione la nuova architettura modulare per i temi, per i temi grafici, quelli di volto, e questo perché è importante, ad esempio, per noi si è reso censario a livello italiano, per integrare, come dire, Bootstrap Italia, che è la libreria sostanzialmente richiesta e imposta da Agile, per i temi degli enti pubblici e che vogliono adottare in particolare, vogliono, come dire, rientrarne nei requisiti del PNRR. Altro aspetto è Quanta, Quanta è il nome del nuovo design system che fornirà un nuovo elegante design a volto e migliorerà ancora la UX e la UI del sistema. È, come dire, un cambiamento significativo, si definisce in gergo breaking changes, diciamo così, rientra in quella categoria lì, e quindi probabilmente avverrà in Plon7. Ci sono già dei prototipi, comunque in particolare per la barra di gestione dei blocchi, che consentono di aggiungere blocchi, cancellarli, copiarli, metterli in mute, eccetera. Altro aspetto su cui la community sta ancora discutendo sono gli slot. Gli slot sono sostanzialmente la possibilità di gestire l'editing place in alcune zone del sito, ad esempio nel footer. Potrebbero essere un misto, per chi conosce già Polone, di Portlet e Tile. Il concetto è che dovrebbero essere ereditabili, vuol dire che se definiscono slot in una certa sezione del sito, questa viene ereditata in altre sezioni del sito, ma sicuramente se verranno implementati dovranno consentire la gestione a blocchi. La community sta già lavorando sulla versione 6.1. L'idea è quella di avere delle release sempre più frequenti. La 6.1 di sicuro avrà altri miglioramenti sul fronte dell'image scaling, la gestione dell'immagine che vi dicevo prima e sicuramente altri blocchi. Plone 7 è all'orizzonte, vi ho citato quanto, cioè il nuovo design system su cui si sta lavorando, ma poi ci sarà novità dal punto di vista dei temi, dei blocchi e di altre funzionalità. Vado verso la chiusura, annunciandomi un po' gli altri appuntamenti. A fine maggio saremo in Germania per uno sprint strategico, uno sprint, un evento in cui la community si trova in presenza, in questo caso una settimana, ma a volte anche da remoto, per diversi giorni per sviluppare Plone e per discutere di come farlo evolvere. Ci sarà un altro sprint a fine giugno in Finlandia per poi concludere a fine anno con la tradizionale Plone Conference che si terrà a ottobre nei Paesi Baschi ed è il momento in cui la community intera si riunisce o in presenza o anche qualcuno, anche molti da remoto. Concluderemo gli eventi del 2023 con l'evento Rios, la Ritian Open Source, con l'Open Source Week tra ottobre e novembre. Ringrazio Victor, Timo, Mauriz ed Eric perché mi hanno prestato il materiale che hanno utilizzato per la presentazione di Plone alla conference che io ho in parte riutilizzato. Quindi vi ringrazio, grazie anche voi per l'attenzione. E niente, quindi questo era l'ultimo talk che chiude questa giornata. Quindi grazie per averci seguito, grazie mille alle relatrici e ai relatori di oggi. Abbiamo cercato di differenziare i vari talk in modo da coprire casi d'uso diversi, anche molto diversi tra di loro, anche testimonianze della flessibilità del CMS Plone, sempre rimanendo coscienti del fatto che alla tecnologia va sempre accompagnata un'attenta progettazione con attenzione ai bisogni degli utilizzatori delle piattaforme. Questo va sempre ricordato. Qualcuno ci ha chiesto se gli interventi saranno registrati? Sì, quindi confermo che rimarranno disponibili sul canale YouTube. Metteremo anche sul sito Plone.gov le slide che avete visto oggi. Quindi ciao a tutte, ciao a tutti e grazie della partecipazione. Alla prossima! Alla prossima!